Il Demiurgo trasformò il caos in cosmo, il disordine in ordine, servendosi della materia indeterminata per plasmare le cose a imitazione delle immutabili ed eterne idee. Ma nel tracciare la sua cosmologia, Platone attribuì ai quattro elementi della tradizione filosofica un significato puramente matematico, nell'ambizione di unificare tutte le scienze. Ciò che ne scaturì fu una struttura complessa nella quale egli rinvenne la chiave per la comprensione dell'intero universo. E questo ente geometrico fondamentale prese il nome di Solido Platonico.